nero 24 rintocchi a mezzanotte di angelo parisi e una raccolta di racconti brevi 24 respiri trattenuti non c'è fuga non c'è soluzione la mezzanotte è una soglia una volta varcata tutto diventa possibile animali parlanti assassini angeli demoni divinità bizzare racconti psicologici di un mondo onirico per nulla lontano ma estremamente vicino perché interiore l'arte è esigenza e l'esigenza di angelo parisi e raccontare il volto segreto e oscuro della quotidianità grazie